insomma dalle due ruote dei vari circuiti alla ruota panoramica la mega ruota panoramica di vieste il caso di dire tutto c'entra con le ruote no alla fine sì perché anche vado in macchina con quattro ruote in questo momento gli ultimi due due anni anche anche questa questa stagione e questa ruota panoramica per me una novità oggi facciamo la inaugurazione alla fine è importante per un sportivo sempre investire i soldi bene perché i soldi si possono finire molto velocemente se non sei intelligente quindi da piccolo sempre mi aveva chiamato l'attenzione le ruote panoramiche sono salito sempre che andava in giro nelle città aveva una ruota panoramica sempre voleva salire e acquistare una ruota così è molto speciale perché normalmente le persone si sono fortunate possono acquistare appartamenti per acquistare una ruota è molto più diverso e speciale quindi sono molto contento e curioso per vedere come funziona questa ruota panoramica e soprattutto per vedere vieste che mi hanno parlato benissimo di di questa città hanno detto che è una delle spiagge più belle d'italia uno del mare più bello d'italia avete vinto anche dei due ultimi anni concorso del mare più bello e sono un grande supportativo dei posti di mare dei posti di soli no sono nato a mallorca quindi mi piace tantissimo questi tipi di posti moto gp la moto gp e sta molto interessante a parte dell'ultima gara che il distacco tra i primi dieci era un po grande le altre gare sono veramente spettacolari penso che le sport sta in un momento molto dolce vediamo chi sarà il campione perché ci sono tre piloti molto forti che che hanno un livello molto similare chi vincerà secondo lei secondo me anche se bagnaia ci metterà tutta e sarà un rivale molto difficile da battere anche marquez secondo me potrebbe essere l'anno di jorge martin il suo rapporto con valentino tossi bene bene molto molto buono e adesso non dobbiamo lottare per per niente quindi siamo tutti e due in pensione lui mi ha invitato al suo ranch due anni fa sicuramente si posso andare anche quest'anno e la reazione è buona in bocca al lupo gudi grazie a te